Musica E poi mischio a punto, figura 8 dal basso, redonda Figura 8, figura 8, redonda, redonda Figura 8, redonda Manunda, figura 8, redonda Redonda, redonda Redonda, redonda 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 Grazie a tutti. 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 1, 2, 1, 2, 3. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Redonda, redonda. Redonda. Questa è figura 8. Guarda. Redonda. 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 Lineare, redonda. Lineare, redonda. 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 Lineare, redonda. 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 la terra redonda redonda guardate guardate una porca redonda legnale verso legnale redonda ok guardate lineare lineare redonda quello divido 2 8 guardate 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 redonda lineare redonda lineare redonda lineare lineare redonda vedi che? linea redonda 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 ragionare perché se capisco il principio poi per un momento è difensivo si dipende questo però sono anche la mia parte difensiva a differenza di triangolo che ho gli scudi e scudo è una cosa questo non è una difesa attiva vado a colpire cioè vado a deflettere mentre il scudo guarda, lui tira viene col camicia scudo quindi vado a creare uno stacolo nell'altro defletto il suo movimento quindi nello scudo ho una linea così nell'altro taglio la sua linea o così o così a salire redonda a scendere redonda WITIC lineale scudo scudo mentre questo ha uno scudo dinamico cioè mi fa da scudo sì nei meccanicamenti vedete quando questo è il mio scudo quindi dove lo vado a fare qua che è la fase di caricamento qua colpisce e qua deflettere mi fa scudo oppure nel movimento direto ok nel movimento direto mi posso invertire che mi fa mi fa mi fa l'amico 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 Grazie per la visione!